Buongiorno a tutti, tutto a posto? Io sto bene, cioè meno male, e niente, volevo parlarvi del film Un metro da te, io l'ho visto domenica a cinema, no c'era un maggiore sonno, e niente, volevo parlarvi un po' del film, se a me è piaciuto o no, a me sinceramente ancora adesso se vedo i trailer o non so, anche un'immagine mi viene a piangere, molto sofferente come film, ve lo dico, chi ancora non l'ha visto è molto sofferente, non me aspettavo che il trailer mi è piaciuto, ho detto sicuramente andrò a vederlo, infatti quello che ho fatto, però non mi aspettavo che fosse così sofferente, perché è molto toccante, e poi anche a parte comunque del film mi è piaciuto molto il fatto che comunque hanno messo anche una persona gay nel film, anche lì è stato molto, ho detto wow, è strano, perché il giorno d'oggi non è che mettono molto gli omosessuali nei film, no? Quindi anche questa cosa qua ho detto wow, cioè finalmente ecco, cioè nel senso si vede ecco il mondo omosessuale, anche i film etero meno male mettono anche qualcuno omosessuale, e penso che sia anche giusto, e che anche il mondo un po' cambia, ecco, però ho veramente andato a vederlo, anche se io la seconda volta non so se lo rivedrei mai perché fa molto piangere, sinceramente mi stai sotto l'ansia quando arriva a metà film, che a metà film veramente, cioè, cioè veramente è favoloso, nel senso che è molto triste, e da metà film praticamente tu piangi fino al che finisce, quindi cioè è molto delicato come film, e anche fa capire comunque tante cose, fa capire che l'amore comunque, quando comunque provi amore per una persona, nel senso che devi tenere la stretta a te, e sento comunque, beh, allora avevano comunque una malattia, che purtroppo la vita non gli donava, ecco, tanta vita, e dovevano comunque ecco, anche quei due secondi là che dovevano stare insieme, per loro era tanto, anche se era poco, però per loro comunque non si potevano neanche toccare, ecco, e non è bello, ecco. però oltre le malattie, oltre può capitare anche qualcosa anche fuori, tanti, comunque tante coppie ritirano per le cazzate, e comunque non si, non fanno neanche pace, comunque non si cercano più, e poi magari si cercano dopo magari qualche mese, o qualche settimana, cioè, io ho capito tanto, mi ha fatto molto riflettere questo film, mi ha fatto capire comunque che ogni secondo è speciale, ogni secondo comunque della vita è molto importante, e fa capire che anche comunque chi sta bene, e anche con la salute, ecco, non deve tanto, come si dice, anzi, se puoi, puoi dare amore, devi farlo, nel senso che, loro che erano malati, non si potevano neanche dare una carezza, e loro, anzi, nel senso che, non è bello, no? e quindi, loro, sai cosa, cioè, visto cosa darebbero per, comunque anche un abbraccio, e loro non potevano farlo, per questo che, anche quello è brutto, no? Nel senso, una parte del film non è bello per questa cosa qua, e per questo anche chi sta bene, è fidanzato, o può dare amore ai figli, può dare amore a qualsiasi persona che vuole dare, ecco, deve darlo, e sicuramente non devono litigare per le cazzate, perché veramente questo film qua, veramente fa riflettere, e io ho molto riflettuto, ed è vero, cioè, quando veramente vedi certi pezzi, e che ci soffri anche tu, perché io ci sono fatto un botto, cioè, quando hai finito il film, io ho detto io non ci torno più, anche se volevo riscaricarle, volevo vedermelo, però non ce la faccio, per adesso, magari faccio passare un po' di tempo, però veramente ogni secondo è speciale, e, ecco, tenti di stretta la persona, che se vi ama, perché non ce ne sono tante le persone di oggi che amano e tengono la persona stretta, quindi, ragazzi, se avete qualcuno di speciale di fronte a voi, qualcuno che vi può dare amore, che qualcun altro non vi può dare, e comunque avete fiducia di quella persona, tenetela stretta, perché veramente, poi, ripeto, la vita è, sembra tanta, ma non è tanta, è poca, e magari in quella vita lì non ci arrivi neanche, può capitare ogni cosa nella vita, quindi, io cerco di, anzi, quando poi ho finito il film, io e la mia ragazza ci ho abbracciati, e ci sono tante cose molto carine, dolci, e da lì, comunque, siamo molto più legati, non sotto dal film, perché già siamo legati già da quando erano piccoli, però, io e lei non ci si chiamo mai, è un amore forte, e non vorrei mai che comunque capitasse qualcosa né a lei, né a me, e sicuramente né anche la mia cagnolina, e se un giorno avrò figli, se avremo figli, guai a chi li tocca, ecco, quindi, fa molto a riflettere, quindi se volete andare a vederlo, che è molto sofferente, non lo consiglio, però, piangere non fa male, sicuramente, e niente, questa è la mia recensione sul film, e niente, vi saluto, scusate per, che è proprio metto per a piangere, perché, mostriate un amore, è molto sofferente, perché hai paura sempre di capire qualcosa, però, ok, scusate, e niente, vi saluto, vi mando un grande bacio, ci vediamo nel prossimo video, mettete like, e iscrivetevi, se volete, un bacio, ciao a tutti!